Ciao, questo è un video di prova. Oggi non ho la voce e ti voglio spiegare l'importanza delle H in inglese. Non potete capire? Hello and good morning. What did I say? Hello and good morning. Hi. Questi sono i due suoni più sbagliati dagli italiani all'estero. Siamo veramente ridicoli quando andiamo in giro e diciamo hello oppure diciamo I perché il suono hello in english praticamente non esiste. Il suono I è come se tu vai in giro e dici io, 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 io invece di dire ciao, ciao, ciao. Quindi è molto importante, veramente importante perché per chi parla inglese la H, questo suono aspirato è un suono come tutti gli altri. Anche se per noi italiani magari non è percettibile, dobbiamo abituarci ad usarlo per renderci comprensibili. Quindi già dal primo momento, già dalla stretta di mano quando diciamo I oppure diciamo I si nota subito la differenza e si crea subito un primo impatto. Il primo impatto con un bel high è smooth, cioè fluido, senza intorpi. Il primo impatto con un high già mette sull'allerta colui che sta davanti mentalmente si mette le mani sui capelli perché dice oh my god, io ho another italian, I don't speak english. Quindi dice oh mio dio, qui c'è un altro italiano. Quindi approfittando di questo calo di voce che io ho oggi, provo ad insegnarti una cosa che posso fare tranquillamente, anzi maggiormente in un momento di calo di voce, perché il suono non ha bisogno di voce, non è un suono ma è un'aspirazione. Molto importante ovviamente, durante lo speaking devi essere più naturale possibile, ma fare pratica tutti i giorni, qualche minuto al giorno, sulle H per un periodo di tempo, finché poi parlando non ti accorgi che è automatico l'uso dell'H. Quindi prendi una bella lista di parole, prendi un foglio e scrivi tutte le parole con l'H in inglese che conosci. Dopodiché aggiungi le giorno per giorno quelle che trovi in giro. Iniziamo subito partendo dalla H semplice. Devi appannare lo schermo. Se lo schermo è appannato o gli occhiali sono appannati usando gli occhiali, vuol dire che stai facendo bene. Partendo da qui, provo a dire la prima parola in assoluto. Hi. E poi? Hello. Ovviamente quando parlerai non direi mai Hi o Hello. Qui stiamo esagerando solo perché Stiamo facendo pratica. Nella pratica bisogna esagerare. Come in un incontro di box. Durante la pratica di box si fanno le tecniche precise, perfette, esagerate, molto molto dettagliate. Poi nell'incontro di box ho lavo la spacca. Quindi buona pratica. See you on the other side. Ciao.